Massimo Mariotta, allenatore del Centro Giovani Calciatori, che finalmente in una partita che si andava persa è sempre riuscito a pareggiarla con il cuore, con la grinta e con quella voglia sempre di non mollare e di contraddistingue, perché da allenatore sanguigno come sai è trasmesso finalmente alla squadra anche se ha commesso, come ho detto, in generale. A parte che credo che non mi ritengo solo un allenatore sanguigno. Io dicevo questo aspetto qui, che è quello che conta ora. Al di là della partita stasera permettono, perché sono particolarmente contento per i ragazzi, perché è vero che possiamo avere dei limiti e quant'altro, commentiamo degli errori, perché anche stasera, come hai detto te, probabilmente 2-3 gol erano evitabili e chiaramente queste situazioni qui ci complicano le partite. Però è anche vero che in casa praticamente sempre noi abbiamo dimostrato comunque cuore con le squadre più forti, non dimentichiamoci che il Groseto è il terzo in classifica, fra le prime quattro in Coppa Italia. È una squadra che ha otto elementi, di cui molti esperti, e sta facendo un ottimo campionato. Recuperare tre gol al Groseto, credo che sia nell'arco di tre minuti, sia un'impresa veramente importante. I ragazzi ci hanno venuto fino alla fine, hanno messo anima e cuore, nonostante stasera ci fosse magari un po' un clima un po' particolare qui al Palazzetto. L'importante è che tutti cerchiamo di rimarre dalla stessa parte, stare vicino a questi ragazzi. Io penso, glielo ho detto subito, finita la partita nel Spogliatoio, che queste partite qui aiutano anche a dare autostima e possano, per la nostra situazione, che è quella di cercare di mantenere la categoria, lavorando partita per partita, da molta autostima, può anche aiutare a cambiare in positivo la stagione, a credere di più nei propri mezzi. In questo periodo i giocatori erano anche un po' abbattuti da questo tipo di situazioni, quindi non è stato facile mantenerli sul pezzo, specialmente dopo una partita come quella di Bassano, pronti via, andare sotto di due gol, recuperare, risubire due gol, andare a riposo con due gol di svantaggio, prendere il quinto, c'è da fare complimenti a Emiliano, Torre stasera, perché è entrato, oltre a preparare la competizione di prima, ha compiuto i secondi eventi importanti, ci ha permesso di mantenerci in partita, e quindi complimenti alla squadra. Achilli, il tuo collega, allenatore del Grosse Repubblica, conoscendo anche lui qualche errore dei suoi, però ha strutturato anche qualche errore degli albitri. Questo se l'ha detto Achilli, avrà i suoi motivi. Io personalmente, questa è la sedicesima giornata, sono in una situazione di classifica difficile, la mia storia parla di altre classifiche, e non mi sono mai lamentato con gli albitri, specialmente pubblicamente. Quindi, se lui era ritenuto di lamentarsi con gli albitri, era le sue motivazioni. Io credo che gli albitri stasera possano aver commesso gli errori da ambole parti. Il primo gol, pattino o non pattino, l'albitro posizionato meglio, l'aveva annullato. L'albitro possano dare un gol, quindi anche noi allora potremmo recriminare su alcuni episodi, l'espulsione di Moiano, ha subito un fallo di pattino con il piede sinistro e ha reclamato, perché erano 3 o 4 falli che secondo lui non ci fischiavano. Quindi, questo fa parte del gioco. Io mi tengo il punto, non voglio entrare in queste polemiche. Grazie.